Nel pomeriggio di martedì 25 marzo presso la chiesa di San Michele in Fano, da qualche tempo attrezzata per raccogliere esposizioni di vario tipo è stata inaugurata la mostra curata dalla pittrice pesarese Michela Melle Fazzi dal titolo Fano tra luce e poesia. Circa 30 tra gli oli e gli acquerelli esposti che ritraggono alcuni dei più celebri monumenti della città della fortuna, dall'arco d'Augusto alla fontana di piazza 20 Settembre, senza escludere i tanti e suggestivi scorci che Fano offre ai suoi ospiti che magari scelgono di fare due passi all'interno della secolare cinta muraria. Accanto a questi soggetti sono esposte anche alcune nature morte, le quali risaltano al meglio l'abilità tecnica della pittrice nel riuscire quasi a imprigionare la luce all'interno dei suoi quadri. Tanti visitatori che ci sono vicendati in occasione dell'apertura di questa raccolta, realizzata da un artista che ormai è diventata cala al pubblico fanese, in quanto è già al suo terzo evento espositivo all'interno della cornice dell'ex chiesa San Michele. La mostra rimarrà aperta fino al 4 di aprile e sarà visitabile tutti i giorni, domenica inclusa, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.